Visto che fare appelli allo Stato, fare appelli quindi allo Stato a livello centrale, fare appelli alla Regione è diventato del tutto vano, ho deciso di appellarmi al buon senso e all'amor proprio dei cittadini napoletani. E della Presidente della Commissione Welfare Maria Caniglia l'idea di destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF alle attività sociali del proprio comune, un'opportunità che la legge prevede ma poco conosciuta e praticata, che la giovane consigliera ha deciso di promuovere con un invito ai contribuenti napoletani rilanciato attraverso uno spot diffuso sul web. Nel modulo della dichiarazione dei redditi vi è un apposito allegato per destinare il 5 per 1000. Nell'allegato basterà firmare nel riquadro con la dicitura attività svolte dal comune di residenza. In questo caso potrai donare il 5 per 1000 al tuo comune, quindi in questo caso al comune di Napoli. Mi appello in questo caso al buon senso e all'amor proprio dei cittadini napoletani, perché se non firmiamo quei soldi andanno allo Stato, ma se firmiamo quei soldi resteranno nelle nostre casse, resteranno a Napoli per sostenere esclusivamente la spesa sociale. Quindi autodoniamoci il 5 per 1000. L'iniziativa presentata questa mattina in una seduta della Commissione Welfare riunita in Via Verdi ha riscosso l'apprezzamento del sindaco Luigi De Magistris, che si è reso testimonial della campagna per informare i cittadini sull'opportunità di contribuire al miglioramento dei servizi sociali del territorio. Firma per il tuo 5 per 1000 alla città di Napoli. Un dono d'amore. Grazie a tutti.